ph alcalino ph acido ph neutro acqua d'osmosi non osmosi cioè qui si fa una gran confusione vuoi sapere esattamente qual è la procedura che devi fare segui questo video che andiamo a vederlo insieme e te lo dico io si parla sempre di questo lavaggio di auto e cosa faccio un ph alcalino come pre wash e poi faccio uno shampoo ph neutro oppure faccio un acido malacco come deve essere insomma se sei un privato non magari tutte queste cose non le puoi avere quindi ritrova sempre giusto compromesso e il giusto prodotto che possa essere utile per te poi certe certe paranoie non servono a niente lo devi avere se lo fai se fai un trattamento in nanotecnologia ma io penso che a livello privato se non in casi eccezionali principalmente come protettivo o dai un ibrido o dai una cera o dai un quick detailer quindi tutte queste paranoie non servono che spesso si fanno sui forum secondo me a volte io vado a leggere tutto quello che viene detto ma io dico ma cavolo ma non avete altro da fare nella vita cioè che se che morire dietro a una macchina a parte questo quando il lavoro per esempio lo facciamo noi scegliamo il giusto compromesso per il giusto trattamento ovvero qui adesso abbiamo questa porsche qua la dobbiamo preparare per la concessionaria è inutile che ci facciamo tante pippe mentali andiamo a lavorare in maniera adeguata per dare una giusta protezione finale alla macchina quindi cosa farò la macchina non so da dove viene perché il cliente cliente concessionario sa che insomma è stata in germania però la non sappiamo lo storico quindi cosa facciamo lavoreremo con un pre wash alcalino e poi lavorerò con uno shampoo a base acida perché andrò a togliere le contaminazioni più grosse i discorso dell'acqua faccio l'osmosi inversa ok ma non è detto che l'osmosi inversa vada sempre bene prima di tutto perché deve essere fatta un impianto di un certo tipo e siccome costa un occhio della testa a livello privato non te lo puoi permettere ma a volte non se lo permettono neanche chi ha i centri dei teni cioè quelli osmosi e anche lì comunque non è detto che togli tutto il calcare o togli tutte le contaminazioni e allo stesso tempo l'acqua risulta talmente a volte oleosa che poi fai fatica a rimuovere comunque lo stesso eventuale residuo che ci potrebbe rimanere quindi se tu fai un lavoro buono e stai al chiuso la macchina è fredda non è calda il calcare sopra non glielo lasci questo è importante ma questo non lo dico io lo dico come esperienza ma ci sono comunque degli studi che vanno a vedere queste cose qua adesso andiamo questo tra l'altro è un bianco pastello poi qui dietro non so che cosa gli è stato fatto ma poi ve lo faccio vedere meglio quando sono di là in fase di lucidatura qui ha dei segni veramente interessanti però adesso ci interessa fare il nostro pre wash alcalino grazie a tutti I've been stacking face down off canvas since I painted I just spent the rain day on drip I can't afford But that's the price I pay for the memories I'm making I've been going places, I've been shaking hands For a chance to really make it This life is so abrasive, swag and what's gaving All this shit that I'm laying in, it's only the foundation I've been going crazy, was trying to find a way I was in the basement, trying to turn the page I was going through the phase, nobody seen my face I've been chasing at the paper, been hard for the waiters With everything again, ain't nothing left to lose I've been breaking rules, I've been making moves With everything to prove, now it's gone Now I see it through my lens, but it's stuck in my head I can't seem to get away from it I went out of my way I'm trying to feel the eye again I've lost somewhere in my head I've been out here all on my own Holding tight to the patch I'm somewhere near the edge Of wishing we never met I'm scared of being without you Afraid you don't want to know me I'm out of the edge And I can't get us out of my head yet Thinkin' like who I'm becoming If it's all I ever wanted Never liked me when you sober Only like you when I'm lonely Got me lookin' in the mirror For the self-diagnosis Feel like they're really nice to me Even if they ever get to know me They tell me that you need me The action didn't show it Knowin' that you've got the angles You seein' through your motives Blow down on my shoulder Found no way to hold it I can't keep my focus Better keep composure I went, I've been coping with All the pressure that I'm fed Make it harder on my head Make it hard to get a sneak Like I'm slippin' from the edge Struggling to get a wreck Right the wrongs and with the left Life is not a guarantee We're just dying by the clip Self-prescribed and dealing mess Not a way to flee the scene I've been tryna get a grip Or there's something out of reach Life is beating to a beat It's how I realize that I'm not the man I wanna be I've been running for myself We all afraid to die alone Forget us all to ever be I've been scrolling down a feed Afraid we'll never give the T The type of liberation That we really need to set us all free I went out of my way I'm tryna feel the eye gate I'm lost somewhere in my head Ignite it all on my own I'm holding tight to the pledge I'm somewhere near the edge I wishin' we never met I'm scared of being without you Afraid no one ever know me I'm out near the edge And I can't get a shot of my head yet Life is what you makin' I feel like I'm lazy I can't see a way out I've been second-faced Down off canvas since I painted I just I just That's a jab I'm just I'm I think I'm Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso che l'abbiamo lavata e decontaminata siamo pronti per lucidarla, ma io non lo so perché, che cosa gli fanno le macchine? Che cosa gli fanno le macchine? Adesso spegniamo tutto perché dovrei far vedere una cosetta, una cosetta che si vede con le lampade. Vediamo se riesco a farvelo vedere dalla telecamera perché non sono sicuro. Ecco, ed è un bianco pastello. Questo è un bianco pastello. Lo sapevo che dalla telecamera non si vede niente, o sì? Sì, forse. Qualcosa si vede. Qualcosa si vede. Dobbiamo darglieli a rimuovere. Questa ha visto tanti di quei rulli, ma al di là di quello gli hanno fatto anche qualcosa d'altro. Vabbè. Principalmente ce l'ha qui, qua già meno, e qui. Qui è veramente messa male. Quindi adesso campionatura per capire quale tampone è meglio usare. E qui c'è una lucidatura, non posso fare una lucidatura a tre step o due step perché è per un concessionario. Non è che possiamo andare a fargli spendere chissà quanto. Dobbiamo trovare una via di mezzo, un compromesso. Quindi io probabilmente lavorerò con... Adesso vediamo con uno protet. Altrimenti andrò con la media di Svizzera. Questa. Questa macchina ha voglia di farmi tribolare con l'allarme.